Allora noi abbiamo passato tre giorni a parlare di questa roba qui e di molte altre cose che potrei dire, ma avevo promesso che non vi avrei tediato oltremoto su queste materie. Parliamo di tutto questo, cerchiamo le nostre proposte, ci interroghiamo, ci confrontiamo, eccetera. Poi arriva il giornalista di turno e uno dei nostri delegati fa questa domanda. Senta ma, questa maglietta scura che porta, è un omaggio alle camicie nere? Grazie. E chi gli rispondi? Dico ma, cioè, ma vi rendete conto di quanto siete lunari? Vi rendete conto che vi rendete ridicoli? Lo dico anche per voi, per la vostra professionalità. Pietà, rifiutatevi! Cioè dite a quello che vi ci manda, dice, senti, io mi vergogno, io ho studiato, io ho studiato una vita per fare questo lavoro, io mi vergogno, ma vacci tu a farla sta domanda, che è quello che risponderei io.